salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video finalmente è arrivato il momento di provare la missione test che abbiamo programmato con l'ITKEY quindi ragazzi come sapete con il rilascio della versione 2.2 di l'ITKEY è stata integrata la compatibilità con il Mavic Air quindi qualche video fa ho fatto una missione con l'ITKEY che l'ho chiamata test se vi ricordate se non l'avete visto andate a vedere il video e finalmente è arrivato il giorno di andare a provare questa missione test c'è da dire una cosa però che l'ITKEY con questa versione 2.2 con cui ha dato la compatibilità con il Mavic Air ha un problema quando noi attiviamo l'ITKEY e quindi accendiamo il Mavic Air il Mavic Air passa in modalità 5,8 GHz quindi una connessione non performante dal punto di vista dalla distanza e non rimane a 2,4 GHz come invece quando usiamo la DJI GO 4 ho già scritto un'email a l'ITKEY dicendo di questo problema loro mi hanno scritto che sanno del problema e che non dipende da loro hanno già chiesto DJI di rilasciare le SDK che risolvano questo problema quindi aspettando che la versione con questo problema risolto di l'ITKEY esca intanto lo si può usare secondo me non bisogna andare a distanze molto elevate quindi per questa missione che tanto è una missione test e le distanze non erano elevatissime possiamo provarla quindi adesso carichiamo la missione test che avevamo fatto e decolliamo e speriamo che vada tutto bene ok quindi adesso andiamo a caricare la missione clicchiamo sulla cartellina qua a sinistra vedete che c'è ancora quella che avevamo fatto test 1 c'è ancora anche quella che ho chiamato papà che poi non ho ancora provato nemmeno quella quindi andiamo a cliccare su test 1 carico e vedete che si è caricata la missione quindi adesso è tutto pronto per il decollo andiamo a cliccare su play vuoi iniziare la missione ok il mavic ok vedete che il mavic è partito per eseguire la missione non era una missione molto complessa vedete che sta per adesso rispecchiando appieno quello che è la missione lo vedete con il simbolino di liti che se ne va lungo tutti i point tenendo il muso girato verso poi cioè i punti di interesse che avevo messo vedete come lui gira e tiene sempre la telecamera puntata verso i punti di interesse che avevo creato missione conclusa ok ha finito i sette point che avevo creato e adesso sto tornando alla home quindi ragazzi avete visto che è funzionato tutto perfettamente il mavic ha fatto tutta la missione ha girato la telecamera verso i punti di interesse che avevo messo nella missione era una missione piccolissima era solo una versione test comunque l'ha fatto benissimo l'unico problema vi ricordo è questo discorso che a questo momento litiche col mavic air cioè di far passare la connessione wifi a 5,8 gigahertz e in teoria dovrebbe risolversi con i prossimi aggiornamenti quindi non andati a grandi distanze comunque se non se rimanete a distanze accettabili lo fa bene anche a 5,8 gigahertz diciamo che per adesso tutto è funzionato bene quindi vi rimando a un prossimo video in cui magari proveremo politichi a farlo funzionare su un obiettivo un po più importante di un campo questa era solo una versione test e quindi ragazzi come al solito lasciate un grosso pollice su se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao